Dai Giampino andiamo a fare un giro che c'è una bella giornata fuori No dai lasciami stare, sono stanco, non mi va Ma come fai ad essere stanco? Hai dormito 13 ore Eh che ne posso farci? Sono stanco, sono una persona molto impegnata, ho tanti impegni Giampino ma la bevi l'acqua durante l'arco della giornata? Ma che acqua? Ne bevo poca, a me piacciono più le bevande zuccherate, a me, cioè, il sapore dell'acqua non mi piace Ma Giampino l'acqua è acqua, dovrai pur berla Eh ma non mi piace, quindi non bevo acqua Giampino non ti preoccupare, ho la soluzione per te, water drop Ah wow che cos'è, acqua in una borraccia? Ma non è solo acqua dentro la borraccia, tu grazie a water drop riesci a dare gusto all'acqua, capito? Scusami, e come fai a dare gusto all'acqua? Eh per esempio grazie a queste microcapsule, adesso vi faccio vedere come, tipo queste Molto semplice, tu prendi queste microcapsule, le metti nell'acqua, aspetti che si sciolgono E ora hai acqua al sapore di mirtillo e fior di sambuca Alla salute Fammela provare immediatamente Ma è buonissima!